Oggi che giorno è? È 24 aprile! Vuol dire che domani è la giornata della liberazione dal fascismo e dal nazismo? Sì! Allora una canzone per voi. Oioio, a coglia dotte, a coglia dotte. Oioio, a coglia dotte. Oioio, a coglia dotte. Oioio, a coglia dotte. Oioio, a coglia dotte. L'obbedienza non è più una virtù. 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 L'obbedienza non è più una virtù.